Aspetti con ansia il martedì per goderti tutte le figuracce delle squadre italiane in Europa? Bene, sei pronto per il fiasco d'inizio? Solo su Skyfo potrai godere di tutte le emozioni che solo il grande calcio italiano sa regalare. L'afflizione, la frustrazione, l'angoscia, l'umiliazione. Entusiasmati di fronte alle disfatte di Milan, Roma, Palermo, Sampdoria e agli imbarazzanti pareggi di Napoli e Juventus. È tutto con l'incredibile tecnologia dell'alta disperazione. E per chi si abbona entro la prossima settimana, cioè prima che anche l'ultima squadra italiana venga eliminata dall'Europa, subito in omaggio la MasoKi, la chiavetta interattiva che si collega al decoder. Con MasoKi potrai seguire tutte le partite con il commento di ridenti e festaioli telecronisti interisti che ridono per 90 minuti delle disgrazie altrui. E se vuoi che il tuo dolore emotivo sia anche fisico, premi il tasto verde del tuo telecomando e riceverai una simpatica scarica da 220 lot. A 999 euro al giorno, solo su Skyfo, il calcio italiano in tutto il suo scempio, la Champions League. A 1099 euro al giorno, solo su Skyfo, il calcio italiano in tutto il suo scempio, la Champions League.